Ciao a tutti minacraftiani. Stavo guardando che cavolo avevo in mente quando ho fatto saltare questo povero villaggio. Forse è ora che mi devo rinchiudere in un manicomio. E ho ucciso anche tante persone oltre agli slime. Che vergogna! Un tizio che ha distrutto metà mondo. Io gli darei l'ergastolo. Adesso non esagerare. Va bene che ho fatto un casino però non ho distrutto metà mondo. Mi so che oltre a rinchiuderti in un manicomio devi anche farti una visita agli occhi. Adesso che riguardo, penso che per una volta tu abbia ragione. Ma chi è stato a chiamare la polizia? Forse il tuono dell'esplosione è arrivato fino alla caserma dei poliziotti. Ma sono proprio un deficiente. Grazie. Grazie.